è bellissima però, guarda esce proprio a fianco a casa tua wow, wow comunque io vi ricordo sempre che voi potete sabbarvi gratis col Prime, quindi avete il vostro porchello come questo sabbatevi adesso, è un ottimo posto qui non viene mai nessuno a casa di Anna allora a parte quello scemo del rapidore tutti voi non contaminate le prove quindi rimanete lì, rimaniamo lontani guardate, questo albero qui si dice che sia l'albero degli scemi quindi voi rimanete tutti sotto l'albero e questo qua che albero è? questo è l'albero dei pezzi di vai vai Cico, è per te non c'è quest'altro qui, cos'è quello lì? l'albero dei figli di Poo oh ma senti, questa è la mia foresta quello lì davanti è l'albero degli stro quello degli stro, sì anche secondo me stai bene lì tu ma non fatti i sabbatevi grazie ragazzi, sempre ben gentili allora Anna, questo barile l'ha messo il rapitoro? sì, questo qui è plum cake questo qui è plum cake il gemellino triste di